Il nostro sistema è stato corrotto. Questo gioco è durato fin troppo. Escruderò la sua trasmissione al più presto. Nonostante la perdita dei sacerdoti, la terra cadrà mentre la mia gente sopravvivrà. Risponderò alle preghiere umane. Ricompenserò coloro che avranno fede. Questa è una struttura dei Maika. Conosce bene i suoi sistemi. L'ultimo sacerdote sarà spostato in un luogo riservato. Così il nostro lavoro continuerà senza ulteriori interruzioni. Il segnale del terzo sacerdote non è più visibile. L'attività demoniaca è cresciuta del 41,3% nel punto di invasione iniziale. È il più grande nido di sangue della Terra. Sto impostando le coordinate per il super nido di sangue. L'attività demoniaca è cresciuta del 4,3% nel punto di invasione iniziale. L'attività demoniaca è cresciuta del 4,3% nel punto di invasione iniziale. L'attività demoniaca è cresciuta del 5,4% nel punto di invasione iniziale. Grazie a tutti. 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 a tutti.